Brucia ancora di più che una sconfida. Per quanto uno possa essere e voglia essere razionale, in questo momento mi riesce difficile fare un commento perché è assurdo. Dicono che la bellezza del calcio è questa, ma per chi riesce a rimontare le partite noi oggi abbiamo commesso. Abbiamo peccato al 90-13 sull'ingenuità che una squadra come la nostra assolutamente non può permettersi. Sì, sicuramente merito al Montecchio che ci ha creduto fino alla fine, però grosso demerito al Gualdo che aveva palla in mano a 20 secondi dalla fine in zona di attacco e è riuscito a beccare addirittura un contropiede. Sì, ripeto, non diventa difficile. Un attimo prima abbiamo fatto un 3 contro 1 per poter chiudere la partita e poi, ripeto, è difficile commentare palla in mano a 30 secondi dalla fine, 10 contro 11. L'ingenuità che abbiamo commesso non ammette scusanti. Vedendo un attimo i lati positivi, una squadra che fino al gol del 2-1 del Montecchio, ben messa in campo, che è riuscita a realizzare due gol, poi ha subito il ritorno del Montecchio che era inevitabile, poi chiaramente l'inferiorità numerica ha penalizzato molto da questo punto di vista. Sì, ripeto, faccio proprio fatica ad andare a analizzare una partita che per noi sarà messa meglio di così, 2-0 in trasferta fuori casa e poi abbiamo cominciato a commettere una serie di ingenuità. Vedi anche l'espulsione, non può essere 10 contro 11, commettere delle ingenuità del genere. Siamo rimasti in 10, abbiamo preso un gol, di nuovo un gol su palla inattiva e questo non va bene. Quindi abbiamo tanto da lavorare ma dobbiamo crescere da un punto di vista soprattutto della gestione delle partite. Da questo punto di vista ormai dopo 5 partite chiaramente un piccolo bilancio va fatto. Questa è evidente che è una squadra che manca di esperienza e quella di oggi praticamente è la dimostrazione lampante di non riuscire a sapere gestire una partita a 30 secondi dalla fine. C'è intenzione di porre rimedio a questo punto di vista? Si va avanti così? Quali sono praticamente adesso? Come ci si inquadra? Perché praticamente le potenzialità di questa squadra ce l'ha e si vede, però chiaramente l'esperienza conta quanto magari un fattore tecnico. Oggi è la dimostrazione, ma noi non è che non abbiamo dei giocatori esperti, è che non riescono a far pesare e a gestire come oggi. Se penso che Campese è andato, dico Campese per fare un nome, per dire a un giocatore esperto, su una rimessa laterale è andato lungo, 10 contro 11, per piare ancora una palla in profondità, è lì che sta l'assurdità della giocata. Quindi adesso con tranquillità analizzeremo un po' tutto. Sicuramente siamo una squadra ingenua che proprio non sa gestire i momenti. in pratica non avremmo più dovuto giocare. La sfortuna è anche, questo è il calcio così, è che la rimessa laterale è venuta dalla parte opposta della panchina, perché se no stavamo strillando come dei pazzi. Se penso che sta per battere il rizzotto questa rimessa, che era venuta in fase offensiva. Quindi, ripeto, abbiamo gestito adesso a bocce ferme, con calma analizzeremo tutte le varie situazioni, tenendo presente anche questo, che effettivamente siamo una squadra ingenua e oggi il campo ci ha presentato un conto veramente salato. Diciamo, sulle note positive, tre gol in due partite di Matteo Ramacci, schierato come esterno di centrocampo, che però comunque si sa inserire bene, anche se chiaramente Pandolfi da solo davanti ha tribolato non poco, ma non poteva essere forse diversamente. Sì, certo, Pandolfi si sta sacrificando in un ruolo non suo, Ramacci è impiegato come esterno di sinistra alto, insomma, il campo sta ripagando questo ragazzo di tutti i sacrifici, c'è qualche qualità, ce l'ha, le stava mettendo, ha fatto un gran secondo gol. Ma io devo dire, oggi da segnalare anche il rientro di Ragni, che per noi è un po' un oggetto misterioso, nel senso che è un ragazzo che non gioca da tanto tempo, oggi anche lui, se vogliamo, possiamo annoverarlo tra quelle note positive. Lui insieme anche a Ruggeri, forse, che ha sostituito Fiorelli a freddo e ha fatto anche un paio di interventi decisivi. Ha fatto una gran parata, non era facile entrare in una partita del genere, sicuramente se l'ha cavata egregiamente. Ragni tutto bene, peccato quella rimessa laterale alla fine, è toccata proprio a lui, andava gestita meglio. Si riparte per l'ennesima volta? Eh beh, certo, il calcio è così, è dura, è questa qua da mandare giù, perché, ripeto, perdere due punti così al 94esimo, domenica al 90esimo con ingenuità abbiamo perso la partita, oggi addirittura al 94esimo, cominciano ad essere punti pesanti quelli che lasciamo per strada.